Non ho alcune parole, non posso crederci che sono qui. Molto ha cambiato e in qualche modo non ha cambiato perché part 2 è stato fatto in cui part 1 è la parte. So, I think the course of the movie is the change. I mean, honestly you just wake up every day hoping that you can be as good as the person next to you. They truly are so brilliant and getting to learn from them and watch them work I think is the best part. I was looking for something that was completely different and a challenge in a way that I was getting to explore parts of myself that I never had and this was the ideal thing to step into. I'm just like, I don't have any words I just can't believe I'm here and I can't believe I get to celebrate this movie with all these people here. Allora, prima ero senza cappotto però volevo farvi vedere non fa freddissimo per essere Londra volevo farvi vedere una cosa assurda di questo red carpet perché è fighissimo praticamente c'è la sabbia e ogni 3 secondi c'è qualcuno che pulisce sul red carpet perché giustamente si sporca tutto di sabbia vedete? è sabbia vera sabbia vera al centro di Londra per l'anteprima mondiale di Dune parte 2 per l'anteprima per l'anteprima per l'anteprima per l'anteprima The light готов zum roll it's time for the l'anteprima per l'anteprima per l'anteprima